Ciao ragazzi, sono qui per invitarvi questo sabato 23 novembre alle ore 18 al centro commerciale La Bideria di Secondigliano per due cuori, la fila della sposa, saremo protagonisti con il nostro live e canteremo live anche questa qui ne approfitto per salutare anche Antonio Pisano della Music Event Pronti? Vaiù! E da adesso lo so, cosa accolta per me, io vivevo di sé, non pretendo di più io non chiedo più niente al mondo sembrava quasi avessi perso me, l'amore poi mi ha regalato te ma tu amami, 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 amami forte e poi stringimi, stringimi senza farmi male grazie a tutti grazie a tutti